Sì, padre. Laura, io ti battezzo nel nome del padre. L'unico lavoro decente che possiamo fare noi donne è quello di maestra. Laura, saluta il tuo futuro sposo. Una Colombia conservatrice fa da sfondo alla vita di Laura Montoya, una donna con la passione di Dio. E non ti vuoi innamorare? Provare l'amore? Se è per questo, io ce l'ho già un grande amore. Io voglio aiutare la gente che è sola nel mondo. Devo andare dove nessun'altra vuole insegnare. È lì che devo stare. Religione? Sì, signore. In questo villaggio pratichiamo lo spiritismo. La fede si perde, padre. Beh, aiutatemi ad aprire la chiesa e poi ci penserò. Laura, una vita straordinaria. Dal 28 gennaio, la domenica e il lunedì.